Grazie a Marzia per la presentazione, grazie al Politecnico per l'ospitalità e soprattutto un grazie particolare ai curatori Maria Teresa Fiorio e Pietro Marani e a tutti voi per essere qui oggi con noi, dove io ho l'opportunità di potervi presentare la riscoperta virtuale dell'uomo vitruviano, come esempio recente di quanto le nuove tecnologie possano contribuire alla costruzione della conoscenza, vasto e complesso tema del convegno odierno e naturalmente alla sua divulgazione. È difficile parlarvi di un prodotto che essenzialmente va visto, va toccato e va visualizzato nel suo movimento. Questo breve filmato vi può dare un'idea della nuova acquisizione digitale e della sua elaborazione tridimensionale. Lo scopo del lavoro effettuato mettendo in campo le più evolute tecnologie di acquisizione e di elaborazione virtuale dell'immagine è stato quello di ottenere un'ottimale riproduzione digitale del celebre disegno per esaltarne la sua enigmatica unicità. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la soprintendenza veneziana e il centro studi vitruviano di Fano. Il gruppo di lavoro è composto da Marco Gagliani e Fabrizio Ivan Apollonio dell'Università di Bologna, Paolo Clini e Gianni Plescia delle Università Politecniche delle Marche, con Massimo Zanko di Tabula Rasa. L'effetto spettacolare è senza dubbio accattivante per il vasto pubblico, che solo di rado può godere della visione dell'originale per i ben notti motivi e problemi di conservazione e le esigenze di tutela del prezioso e delicato manifatto cartaceo, problemi sempre prioritari rispetto a qualsiasi forma di valorizzazione, che tuttavia grazie alle nuove tecnologie di riproduzione e visualizzazione digitale delle opere d'arte si fa virtuale, non invasiva, ripetibile all'infinito, lungo un nuovo percorso verso un'immagine di Leonardo impossibile da vedere anche potendone osservare i disegni da vicino. I punti, le linee, il corpo, il volto emergono nel dettaglio della spettacolarità digitale in grado di raccontare, spiegare e attrarre l'attenzione su nuovi modi di vedere ed entrare nel disegno, così come solo Leonardo poteva fare. Le valenze digitali legate all'altissima risoluzione dell'acquisizione e all'amplificazione del dettaglio nel formato 3D del foglio mostrano l'uomo vitruviano in modalità fino ad ora improponibili, raggiungendo un centesimo di millimetro. Nel caso del disegno figurativo l'analisi dei tracciamenti e delle campiture corrisponde, oltre alla possibilità di ricostruire il metodo dell'artista, a quella del modo con cui un sistema tipicamente monodimensionale, cioè la linea, viene declinato su un supporto bidimensionale a formare elementi costitutivi iconici e aniconici. Il principale vantaggio del sistema è una visualizzazione fedele che non si limita a una semplice vista ortogonale ma fornisce la capacità di documentare, visualizzare e analizzare i dettagli fini della superficie. Gli utenti possono zoomare le immagini ad alta risoluzione e misurarne le caratteristiche, comparare e sovrapporre le varie parti del disegno con differenti tecniche di illuminazione e così pure recto il verso, lati del disegno che restano sempre separati nella realtà per l'impossibilità tipica di movimentare un dettaglio sul fronte e vedere poi a cosa corrisponde sul verso. Tramite invece una veloce rotazione del supporto cartaceo magari ripetuta nei due sensi. L'obiettivo della soluzione sviluppata per il disegno di Leonardo è perciò quello della ricomposizione in quanto replica digitale fotorealistica 3D e quindi su un piano pratico è lo sviluppo di tecniche appropriate a restituire il comportamento in riflettenza dei disegni come la specularità, le interriflessioni e la mesoscala, componenti ricorrenti ad esempio in disegni di architettura antichi e quindi anche nell'uomo vitruviano. Per ottenere la qualità richiesta dell'immagine il nostro caso di studio ha comportato la messa a punto di nuove tecniche e metodi della fedeltà della riproduzione del colore e un sistema di consultazione basato su un touch table particolarmente idoneo anche agli utenti non esperti di processi tecniche digitali essendo basato sulla gestualità ormai comune dell'utilizzo degli smartphone. Rilevante attenzione inoltre è stata data a tipiche problematiche come la valutazione dell'entità del degrado dovuto a sottoporre i disegni a una fonte luminosa durante la ripresa che come noto dipende fortemente dal tempo dell'esposizione dell'oggetto alla luce e dalla sua intensità secondo la norma uni nota del 99. Per questa ragione è stato possibile utilizzare solo luce continua o fluorescente. Per quanto riguarda gli output un primo problema affrontato è stato quello della determinazione della risoluzione appropriata alla quale acquisire le immagini al fine di garantirne l'evidenza dei dettagli di tutti i dettagli significativi presenti nel documento originale essendo il tratto di Leonardo particolarmente oneroso rispetto a questo parametro. Una seconda problematica ha riguardato il mantenimento della fedeltà del colore che è stata ottenuta tramite una procedura di caratterizzazione e calibrazione del sensore e un'illuminazione controllata. Si tratta di illuminatori di nuova concezione ad altissima frequenza esenti da sfarfallio e a bassissima temperatura di colore che hanno permesso un'esposizione durante la ripresa limitata a 900 lux ora anno equivalente a due giorni di esposizione in mostra. Quanto all'applicazione per la visualizzazione del modello 3D la software house è stata coinvolta nel progetto e ha dato sostegno allo sviluppo di caratteristiche specifiche. credo che lo spero che l'operazione condotta possa rivelare alcuni lati interessanti sul piano scientifico, culturale e didattico anche per specialisti, conservatori e restauratori e che la restituzione di un disegno possiamo dire nuovo potrà permettere inediti e inaspettati approfondimenti. Si pensi solo al modo con cui è realizzata la circonferenza, uno dei segni che più attragono la nostra attenzione, ma non si tratta di un segno unico disegnato facendo fare il compasso all'avambraccio o ottenuto facendo ruotare il compasso. Quest'ultimo è utilizzato solo per fare un solco di base su cui Leonardo va ad appoggiare la penna in tinta nell'inchiostro. Poi la linea è realizzata per tratti non lunghi più che un arco sotteso a 30 gradi, come dimostrano, lo vediamo, le varie riprese della circonferenza invisibili nell'insieme ma chiaramente distinguibili anche in questo dettaglio ingrandito. Questo è un altro particolare con due riprese di Leonardo molto vicine tra di loro. A un primo sguardo superficiale sfugge il fatto che le due figure geometriche non siano concentriche e quindi sfugge in realtà la funzione del cerchio, secondaria rispetto al quadrato. La costruzione geometrica secondo i modi della sezione aurea, come ha dimostrato Rocco Sinisgalli nel 2003, funziona sia partendo dal cerchio che dal quadrato che è stato disegnato per primo e per pochissimo è rimasto vuoto. Le figure sono state disegnate dopo. Le punte delle dita sfiorano il lato superiore del quadrato, un'altra ripresa del cerchio, la sezione aurea ed eccoci alle punte delle dita. La precisione millimetrica con cui gli indici delle due mani evitano il contatto con il lato orizzontale lo dimostrano e Leonardo, come suggeriva Pierantoni, parte dai diti. Vediamo come il dito indice tocchi il lato del quadrato, proprio come lo stesso Leonardo scrive sul foglio, continuando poi con i palmi, iniziando ovviamente da destra, come per la scrittura, fino a raggiungere la zona delle spalle, per poi scendere verso il busto e le gambe unite, fino al piede, il sinistro, altri due particolari dei diti, ed eccoci al piede. L'unità di misura, il piede sinistro ostentato in posizione anatomicamente scorretta, possiamo dire, un'unità di misura che si può riportare lungo tutta l'altezza del corpo, contando come, scrive, pie fia la settima parte dell'omo. Così facendo, Leonardo infrange però la simmetria perfetta della metà superiore della figura. In entrambe le posizioni nella parte superiore è perfetta e la orienta invece nella parte bassa verso sinistra. Anche il piede della gamba sinistra aperta è girato e non è frontale. Non più per indicare l'unità di misura che era già stata così chiaramente raffigurata. Non solo il piede, ma già la gamba si stacca, e nel dettaglio lo vediamo bene, sensibilmente più in alto che la destra, come appunto risulta ben evidente dal particolare ingrandito. Perché non è uguale all'altra anca. Dobbiamo scorrere ancora in basso e vediamo come la deviazione asimmetrica dall'asse diventa ancora più esplicita quando il pene nasconde quasi del tutto il testicolo sinistro, mentre quello destro resta del tutto visibile. Pur mettendo le quattro gambe, le due unite e le due aperte in posizioni non uguali, l'effetto di simmetria è raggiunto comunque e lo rivediamo nell'intero. Ma non sono né binarie né simmetriche. Solo il primo piede, questo, quello destro che poggia sul cerchio, è in posizione frontale, corretta sia nella visione della rotula che delle dita del piede. L'unico. Il secondo è già inclinato a sinistra, sia nello scavo della coscia che copre quella dell'altra gamba, che della pianta del piede. La sinistra sul cerchio, come abbiamo visto, è poi tutta rotata di nuovo a sinistra. Qual è allora la gamba su cui poggia il peso del corpo? Non l'altra gamba aperta perché avrebbe la stessa posizione, parallela e simmetrica. È la gamba destra unita, diciamo, che poggia sul quadrato, che sostiene il peso corporeo stando dritta ed è allora che impone all'anca sinistra di uscire e di sollevarsi verso sinistra. Lo visualizziamo forse ancora meglio in questa immagine che, come vedete, è ripresa sul tavolo luminoso e uscendo dallo schema fa meglio percepire l'abbinamento 1, 3 e 2, 4 delle gambe. Leonardo quindi non si comporta, vediamo con le gambe, come fa con le due posizioni delle braccia, perfettamente parallele, ma le abbina due a due partendo in sequenza progressiva e seguendo un ideale moto scendente sul cerchio. In questo modo ottiene il movimento, quell'andamento cinetico che nel codice Oinges si perde perché le due gambe unite lì sì sono frontali e le due aperte sono anch'esse simmetriche. Difatti l'anca sinistra nella ripresa del codice Oinges non è sporgente, non esce come in Leonardo. In questo modo inoltre la posizione del piede sinistro deborda anche dagli schemi geometrici. Esce proprio da quel triangolo sotteso alla costruzione, quindi non visibile per noi, ma nominato da Leonardo che scrive nel foglio e lo spazio che si trova in fra le gambe fia triangolo equilatero. Deborda di quasi tutta la lunghezza del secondo dito. Il vertice del triangolo infatti coincide con la punta dell'alluce. La posizione dunque non è perfetta, non coincide neppure con la figura geometrica, quel triangolo che determina la dimensione del cerchio come il Nicolò Cusano che nel 1440 scrive il triangolo è circolo. Il cerchio si sviluppa partendo dal triangolo, come in Leonardo. La connessione di triangolo e circolo e la loro relazione e proporzione che propone l'accenno al movimento intorno al fulcro assume un'importanza particolare anche nella rilettura leonardiana del canone vitruviano. Sul tavolo digitale inoltre sono implementabili nuovi link di approfondimenti con vari argomenti. Uno in corso di preparazione sarà dedicato ad approfondimenti tecnico-scientifici da parte del restauratore conservatore Loretta Salvador. Sul tipo di carta ad esempio attualmente di colore bianco con una leggera tonalità fulvo. Leonardo ha utilizzato la parte feltro del foglio, la vediamo, la parte generalmente usata per la scrittura che veniva levigata a chiudere le porosità e rendere la superficie più impermeabile e adatta a quindi alla scrittura. Una buona carta. Infatti all'esame a luce molto radente la superficie del recto è particolarmente liscia, quasi patinata, mentre il verso risulta essere più opaco. Leonardo dunque non intendeva usare il verso del foglio, come invece sappiamo fa molto spesso sia quando scrive che quando disegna. In questo caso no. E ancora sulla tecnica un accenno all'uso dei due inchiostri, entrambi di tipo ferrogallico, quello usato comunemente per i manoscritti, che qui è di due tipi. Uno per la parte figurata, di colorazione più aranciata, con segno più largo dove è maggiore la pressione della mano e la quantità dell'inchiostro. L'altra, la penna usata per le figure, ha lasciato un tratto estremamente pulito, sottile, uniforme, senza sbavature, perfetto per un disegno tecnico che doveva dimostrare le proporzioni. La stessa penna ha poi delineato il tratteggio orizzontale intorno alla figura, tratteggio che come le scritte e la scala metrica sono delineate direttamente ad inchiostro, poiché non compaiono nella riflettoscopia all'infrarosso. Tutti gli altri segni invece del disegno sono tracciati prima con la punta metallica, in quanto il tratto visibile è sottile, lineare e pulito, anche se le recenti analisi non invasive di fluorescenza e raggi X non ha fornito dati certi per la distinzione tra il piombo e l'argento. Un altro ingrandimento ci fa vedere il segno inciso dalla punta metallica del cerchio che Leonardo non ripassa con l'inchiostro ma lascia nascosta sotto il piede. Il testo della parte superiore del foglio che segue la forma della circonferenza è stato aggiunto da Leonardo in un momento successivo, questo ormai è stato sottolineato nel 2009 assieme a Laurenza Borgerini e Pierantoni, con una scrittura più disordinata sia nelle spaziature che nelle colonne, creando un contrasto impressionante con quella ordinatissima e cristallina del brano inferiore. Le ultime due righe sono spezzate dal cerchio piuttosto malamente, non solo, ma seguono un andamento leggermente arquato verso l'alto fin dalla prima riga, anche se la prima riga è ancora lontana dal cerchio. La quinta, questa che vediamo evidenziata, si interrompe a 22 mm dall'asse e riprende a 28, la sesta parte da 34 e riprende a 43. Quindi la mano di Leonardo, procedendo ovviamente da destra, non resta orizzontale, ma tende a salire. Questo è un altro piccolo interrogativo che per ora rimane aperto. Ed ecco come compariva il foglio in un momento originario. Ma per quanto tempo questo foglio rimase così? Quando Leonardo ha aggiunto la seconda scritta? Direi poco dopo e lo direi per due motivi. Il primo perché l'utilizzo del tradizionale punto epigrafico è adottato da Leonardo esclusivamente intorno al 1490. Secondo, il chiostro usato è lo stesso, come abbiamo appena argomentato. E vanno notato ancora una volta che solo in questa aggiunta che Leonardo chiama direttamente in causa Vitruvio e lo fa riferendosi alle misure antropomorfiche e non a quello dove la fonte latina teorizza sulle figure geometriche dell'Homo ad Circulum e ad Quadratum, che sarebbe stato comunque pertinente all'immagine che il testo leonardiano incornicia. Il nominare esplicitamente Vitruvio quindi parrebbe quasi una necessità avvertita dall'artista solo dopo aver disegnato il corpo umano e scritto il testo inferiore sulle proporzioni, dove peraltro si era già discostato parzialmente dalla fonte romana, in particolare nella misura della testa, un quarto in Vitruvio e un sesto in Leonardo, come ha ben evidenziato graficamente Malvina Borgerini nel 2009. L'ultima immagine ad alta risoluzione del verso del foglio, nascosta anche appunto nel momento espositivo, è ben chiara invece sul tavolo interattivo. Il 3D svela con lampante evidenza il solco profondo che si intravede appena invece anche dalla visione ravvicinata dell'originale, del rilievo del disegno lasciato dallo stilo metallico nel verso, che ora diventa appunto ben evidente a tutti, non solo all'occhio esperto. Un solco che delinea tutta la figura che può essere fatto successivamente alla stesura dell'inchiostro, come nota il restauratore Loretta Salvador, per trasportare il disegno su un altro foglio. Osservazione che pone un altro interrogativo. Se il solco è successivo alla stesura dell'inchiostro, può essere proprio Bossi che compra il disegno il 9 dicembre 1807 e ricalca dal suo originale le forme umane su un altro foglio, da usare per l'incisione dei suoi volumi del cenacolo. Ma questo per il corpo umano, ma per le figure geometriche? Qui le ipotesi sono due, oserei avanzare due ipotesi. O Bossi utilizza i 12 fori ben visibili nel disegno, che non coincidono affatto con i fori necessari a un compasso per la costruzione del cerchio e del quadrato, secondo i modi della sezione aurea. Li utilizza, eccoli come li vediamo dal tavolo, dall'ingrandimento, utilizza i 12 fori che trova già esistenti nell'originale di Leonardo. In quest'ipotesi i 12 fori sarebbero stati realizzati da Leonardo stesso, nel momento della ricopiatura del disegno senza costruzione diretta. Avvenuta quindi prima su altri fogli, dove comparivano allora sì i segni delle diagonali e degli assi delle figure geometriche necessari per la costruzione geometrica diretta, gli stessi appunto che mancano nella, diciamo, bella coppia. Leonardo allora avrebbe ricopiato il cosiddetto uomo vitruviano da un foglio precedente, mai giunto ovviamente sino a noi, dove aveva eseguito le costruzioni geometriche, servendosi di quei segni incisi o disegnati relativi alle diagonali o agli assi. Una ricopiatura quindi delle geometrie finite senza appunto costruzione diretta, come fa invece negli altri veri e propri studi di proporzioni umane. Tutti i fori, tutti questi 12 fori che vediamo qui evidenziati, forche uno, servono per la ricopiatura. L'unico di cui non conosciamo la motivazione dell'esistenza è quello posto a 305 gradi circa del diametro in senso orario. Gli stessi fori allora che quattro secoli dopo circa passato l'oblio del foglio dell'uomo vitruviano, Giuseppe Bossi utilizza di nuovo per riportare anche lui le dimensioni esatte della costruzione geometrica su un altro foglio per la sua incisione. L'ultimo accenno alla serrata e puntigliosa critica che Carlo Verri nel 1812 muove al libro di Bossi, aggiunge un illuminato, dove l'autore aggiunge un illuminato collegamento con Leon Battista Alberti, il quale evidenzia la zona in cui nasce il membro virile nel mezzo dell'uomo. Una misura di cui Vitruvio non parla ha fatto, ma viene chiaramente detto, scrive Verri, da Alberti, cito, e forse il Vinci da lui lo ha preso. L'acuta osservazione ottocentesca di Verri è stata ripresa e approfondita soltanto nel 2010 da Paola Salvi, la quale ha confrontato le misure delle varie parti del corpo dell'uomo di Leonardo con i valori di quelle indicate da Leon Battista Alberti nelle tabule dimensioni ominis del suo trattato di statua e ne ha confermato il rapporto diretto e il loro utilizzo da parte di Leonardo per l'uomo ben figuratus alto 181 mm come quello albertiano, con il centro del quadrato nei genitali indicato ad Alberti nell'osso, cito, da cui pende il pene. Il centro del cerchio, che sta invece nell'ombelico, si ritrova, come commenta a Pier Antoni nel 2009, nel cosiddetto, questa è un'immagine molto sfocata ma non avevo altro, mi scuso, concide il centro del cerchio, si trova nell'ombelico come in questo cosiddetto vitruvio ferrarese, già noto nel 1461 e trascritto dal bibliotecario estense Pellegrino Prescicani tra il 1489 e il 93. Opera forse di quel Giacomo Andrea da Ferrara che Pedretti nel 1981 definiva, cito, amicissimo di Leonardo ed accuratissimo commentatore di vitruvio. Se anche fosse lui il primo a disegnare il cerchio e il quadrato in rapporto aureo, completamente diversa, è comunque la postura non vitruviana pura di illustrazione del trattato ma una terza postura ancora. Il rapporto cronologico tra le due illustrazioni rimane un altro dei temi da approfondire, anche con il supporto magari delle nuove tecnologie, su questa celeberrima ma enigmatica immagine definita da Garen, un enigma non decifrato, inesauribile come l'enigma delle cose. A noi il compito gravoso di evitare che le tecnologie diventino tanto referenziali da negare l'opera d'arte, di cui devono invece restituire la più pura originalità. Nel tentativo, non sempre facile, diffondere il mondo del sapere storico-artistico e quello della didattica e dei supporti tecnologici. Ad ulteriore conferma di quanto la modernità debba prendere forma dal passato, perché citando Settis, il classico riguarda sempre non solo il passato, ma il presente e una visione del futuro. Grazie.